Buonasera è un vero piacere per me essere qui a introdurvi a questa serata dedicata a Dark Heaven la carezza dell'angelo ma prima di entrare tra le atmosfere misteriose dark facciamo due chiacchiere con l'autrice bianca leoni capello visto che l'obiettivo nostro è proprio quello anche di scoprire un po' quali che sono i retroscena della costruzione della nascita di questo libro come ben sapete bianca leoni capello non è altro che flavia e lorenza e quindi la prima domanda che nasce anche direi spontanea è come mai questo nome bianca leoni capello comincio io che ho il microfono allora stroppa pecorari come abbinamento di cognomi non ci piaceva e questo era il primo elemento negativo il secondo elemento negativo è che questo libro è nato molto spontaneamente sull'onda del gioco della sfida e non volevamo che ci potesse essere l'impressione che invece ci fosse un intento commerciale che questo libro fosse nato a tavolino per appunto per vendere o comunque per farsi conoscere è nato così non pensavamo neanche una possibile pubblicazione e spesso quando invece c'è la doppia firma si pensa che che appunto due persone si siano messe d'accordo per un progetto dedicato appunto al commercio e quindi questa è una prima motivazione e la seconda motivazione è che quindi subito abbiamo pensato uno pseudonimo che non era quello attuale ma era lo dico sì che era stefania re ed era un po' un omaggio a uno scrittore che noi abbiamo adorato e che abbiamo letto moltissimo fin da molto giovani e che è per cui abbiamo preso il suo nome lo abbiamo italianizzato e femminilizzato naturalmente è venuta fuori stefania re e alla sperling non è piaciuto molto anche perché chissà essendo la casa editrice che pubblica steven king in italia forse l'abbinamento non piaceva e quindi ci hanno chiesto uno pseudonimo di origine veneziana possibilmente e col doppio cognome quindi andando un pochino a spulciare in giro nel web anche abbiamo trovato questa la storia molto intrigante di questa nobile donna che si chiama bianca cappello con due p e la cui storia è molto molto particolare anche un po torbida è legata a dei fatti di sangue anche misteriosi e quindi bianca cappello ci piaceva lorenza mi ha detto beh ma se c'è dentro bianca che il nome di sua figlia dovrebbe esserci dentro anche leonardo che il nome di mio figlio e quindi bianca leonardo cappello no diventava troppo lungo eccetera ed è nato bianca leoni cappello adesso entriamo un po nel vivo di quello che è dark heaven come nasce dark heaven come nasce questa storia fantasy vado sempre io mi par di capire allora io e flavia leggiamo insieme da tantissimo tempo c'è da dire che la nostra è un'amicizia da ormai di 27 anni e quindi in questi 27 anni ci siamo passate libri abbiamo condiviso momenti di scrittura assieme abbiamo dipinto sulle magliette abbiamo giocato a pallavolo abbiamo suonato la chitarra abbiamo fatto tutto quello che vi viene in mente o quasi l'abbiamo fatto e quindi ecco da da queste letture condivise soprattutto nell'ultimo periodo negli ultimi anni letture dedicate a dark fantasy un giorno soprattutto dopo aver letto un filone di libri scritti un po male diciamo che sono quelli che di solito danno la spinta ci siamo abbiamo detto ma perché non provarci anche noi avevamo già alle spalle diverse esperienze di scrittura anche a due nella nostra adolescenza esperimenti molto artigianali artigianali e divertenti soprattutto e quindi da da qui è nata la spinta vuoi raccontare tu sulla storia? sì dunque la storia allora a due punti diciamo fissi iniziali da cui poi si è sviluppato tutto tutto l'intreccio uno diciamo che più di Lorena appartiene un po di più a Lorenza e uno appartiene un po a me io posso parlare un pochino del discorso della teoria dell'incarnazione che era quella che a me interessava molto in quel periodo e soprattutto mi divertiva provare a pensare a degli sviluppi improbabili e molto fantasiosi rispetto a questa teoria ecco comunque il fatto di un'interferenza di una vita passata in questa attuale era qualcosa di molto interessante secondo me di bello da sviscerare ecco mentre sta a Lorenza un pochino l'origine della figura paranormal del nostro romanzo che appunto è l'angelo e non è un buon angelo un angelo cattivissimo un angelo cattivissimo sì avevo questa storia che avevo scritto quando ero ragazza diverso tempo fa e che avevo scritto in varie forme prima con una voce poi a due voci però non era ancora sentivo che non era ancora conclusa che in qualche modo mi tormentava mi diceva di darle più spazio e da lì quando abbiamo deciso di scrivere appunto questo libro assieme ho proposto subito questo tema che si sposava benissimo con l'idea della reincarnazione di Flavia e da qui insomma sono nati i primi passi di questo libro e sono nati qui peraltro assolutamente sì anche perché a casa era molto difficile in quanto beh intanto perché avevamo bisogno di momenti di condivisione e era difficile farlo a casa di uno o dell'altra soprattutto perché abbiamo due bimbi tre nel senso che Lorenza ne ha due però due bimbi molto piccoli intendevo quindi no non si poteva proprio insomma e quindi una sera settimana ce la tenevamo per noi scappavamo da casa e venivamo qui e qui abbiamo trovato sempre l'atmosfera giusta e anche tutta la disponibilità dei degli avventori che ci lasciavano star qui veramente eravamo le uniche due che rimanevano fino a tarda sera penso che ci maledivano un pochino anche però forse adesso che sanno il perché ci scusano un po' di più esatto e quindi sì quindi è nata proprio qui sotto gli occhi di Ettore il gattone grigio che avete visto passare quindi fino a tarda sera ma come facevate visto che Flavia ha bisogno di dormire così tante ore veramente conoscendola anch'io da molto tempo so che ogni volta ogni occasione lei si addormenta un po' per recuperare le energie quindi mi chiedevo appunto come eravate riuscite poi a incastrare tutto questo insieme agli impegni di lavoro di famiglia perché chi ha la passione della scrittura lo fa nei suoi tempi morti ma voi appunto dovete anche incontrarvi quotidianamente per confrontarvi quindi questo diventa diciamo così difficile allora mi viene da chiedere una cosa che un po' tutti si sono si sono chiesti anche quando io cerco di promuovere un po' il vostro libro visto che non dico che mi sento parte in causa ma il manager il manager il manager sì è il mio animo di marketing che viene fuori ma insomma cerco di promuoverlo tra amici e colleghi dicendo che è scritto da due mie amiche tutti mi chiedono ma come hanno fatto a scriverlo insieme un po' una risposta io me la sono data secondo me loro sono talmente insimbiosi visto che anche quando sono insieme si guardano si fanno delle smorfie si dicono mezze parole si capiscono e ridono e tu ti senti tu completamente fuori dal loro mondo ma in realtà diteci com'è scrivere effettivamente in due quali sono le difficoltà o invece i vantaggi allora per noi è stato facile anche perché come dice Lorenzo come hanno detto entrambe è vero ci conosciamo da tantissimi anni e ci sono sempre piaciute più o meno le stesse cose e soprattutto nella lettura questo è venuto fuori e quindi abbiamo un background di letture comuni e anche da giovanissime abbiamo fatto diciamo degli esperimenti più o meno riusciti anche meno ma insomma abbiamo fatto questi esperimenti di scrittura molto creativa insomma sotto diversi aspetti e quindi in qualche modo forse lo stile si era già forgiato un pochino così insomma quello che è venuto fuori in questo libro è frutto di tutto quello che abbiamo letto e tutto quello che abbiamo scritto sempre insieme e quindi non è stato difficile tanto più beh racconta tu quello della contaminazione anche un po' sì tanto più che a volte accadeva questo l'abbiamo scoperto quando abbiamo iniziato la revisione del libro guidati anche un po' dall'editor di Spelling & Kuffer quando appunto abbiamo ripreso in mano il libro dopo diverso tempo perché nel frattempo avevamo anche già scritto il secondo ci siamo accorte che non riuscivamo più a riconoscere chi aveva scritto cosa soprattutto beh in alcuni passi sì ovviamente però ce n'erano tanti di cui non riuscivamo a capire la paternità e io dicevo no l'hai scritto te se mi pareva che fosse scritto male lei diceva no l'hai scritto te ovviamente si scaricava vicendevolmente però ancora adesso ci sono delle nebulose dove non riusciamo anche rileggendolo a capire chi l'ha scritto questo perché abbiamo uno stile molto simile ma anche perché c'era piena libertà di intervenire sul testo proposto dall'altra quindi noi ci assegnavamo le scene all'interno dei vari capitoli si lavorava di notte ahimè fino a tarda notte la mattina dopo si andava a leggere cosa aveva fatto la collega diciamo in questo caso e però c'era piena libertà di dire no fa schifo bisogna riscriverlo provo a riscriverlo io piuttosto che lo riscrivi tu oppure proprio di metterci in mano per metterci in mano per cambiarne alcune parti è stata dura col sonno non dico assolutamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti